Amici, The House Principle 2 proseguiamolo, quello è l'8 migliore non se ne legge, la vita del 7, ciao ma il 7 è qui aspetta 7 vai qua, ok la fatta eeeh, lì, qua ciao un design mi piace anche prendere le cose del pino mi piace tutto mi piace tutto non riesco a per me lo piacere ora, vabbè, intanto questo è disattivato, però eeeh eeeh eh cazzo allora aspetta credo che mi serva ancora questo eeeh ok eeeh 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 ah eeeh 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 Inizio. Passi a il nivolo di sicurezza. E' vero, ma fa' i roti? All'altro è di laggevo. Ok. pensavo fosse lo scale ok vediamo un attimo devo fare il verde bene bella mossa ma c'è una piattaforma volante e dove che non c'è fivo ok facciamo così no 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 Noi che sto trattando qualcosa. No, aspetta, aspetta. Così. 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 L'ultimo. Ho sbagliato proprio lo stesso. Così. 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 Sbagliato. Così. 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 Ok. Va bene. No, ma che non vedo altro. Oh. C'è il fatto? C'è il fatto? C'è il fatto questo? Atenere. Ma'a chiuscité. Chissà questo? C'è un C'è un C'è un C'è? io devo portarlo lì in alto, per metterlo lì là. No, è questo che mi tiene... Che mi... mi disturba. Questo... che... Ok, non è che vi facciamo qualcos'altro che non ho visto. No. Ok, le ho tolte tutte, ora. No, qua e qua. Perfetto. E fin qui, ok. Però io devo sparare quella in alto. Quindi se io facessi questo... E non riuscirei lo stesso. Però aspetta. Ma tu devi... Questo deve rimanere qui in qualche maniera. In qualche maniera che ancora non so spiegare, ma... In qualche maniera. Oddio. Questo è stronzo. Questo è stronzo. Stronzo forte. Non so. Non semplicemente è stronzo. Perché qui dobbiamo metterlo qua. Allora, è legabile che questo deve volare. A meno che no. Sto è prendendo un doperse. Lui a volare. Allora. Faccio così cosa succede? No, allora. Non deve... Secondo me deve essere questo corpo a volare. Quello singolo. In modo tale che spari la cosa in alto. E... E quindi... ... ... c'è un peo 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 un buon no mi serve il po ti giuro che non lo sto capendo così e va bene lo potete utilizziamo chi sono se io faccio questo poi faccio questo poi faccio questo e questo io no perché nessuno sta attivando il coso quindi non è questo quello che devo andare adesso è questo però unidattolo quindi così 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 e così ora ti metto momentaneamente qui no si facciamo questa mossa così secondo me questa è la quadra si di qua poi va bene va bene oh perché è rosso aspetta ok devo fare una cosa tu però l'età mia era buona ok ci sono 10 minuti 10 minuti pezzo no vabbè certo sono sono un coglione sono un coglione perché in questo momento è vero mi servirà lui però lassù ok esatto quindi ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta me ne mancava un altro però l'ho saturato mali vabbè magari per i segreti o altro me lo rigioco comunque video così tanto male non è un'idea che cosa cazzo c'è qui che cazzo dov'è ma lui gioco vai su è come gioco 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 un uomo è un genio di uomo Benissimo Ma stai scherzando? Hanno tolto i sigili per mettere questi Ciao No Ok 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 E io sono due a chi Aba sono sasperato Aba sono sasperato Aba sono sasperato Aba sono sasperato Aba sono Cosa Aba sono sasperato Aba sono sasperato e i tettromeno arrangioni? questi sono i nostri e dei che sono buoni cosa? cosa vuoi? questo è un tipo di antigravity? non mi consapevole Beh, potrebbe essere, credo. C'è l'ho, credo. C'è questo? È un pollo stesso. Cazzo No Cosa è la perfezione Il creatore ha creato Mi sembra eccessivo No 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 Non lo so Non lo so Mi direi forse più questa ma No No Non lo so 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 No Non lo so No Non lo so 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 Voglio dire Voglio dire minaccioso ma no Secondo me è un testo An Ascenso Maybe, but why? I don't know. It's a mystery. Don't you like mysteries, Al? Everybody likes a good mystery. You know what I like? Certainty. You know how you get from mystery to certainty? By solving puzzles? Yep. 1K, you know the drill. The rest of you, as you were. She's been driven all the time. Yeah. However. Me lo aspettavo, figo. Lo volevo, figo. Non me lo aspettavo così, figo. Non me lo aspettavo, però, davvero così figo. Quello no. Minimamente. Ma non c'è qualcosa? No. Ok. Bene. Direi che ci vediamo nella prossima parte. perché la notizia del soleil. Mi è la notizia del soleil.